In quest'anno e mezzo di attività qui a Faber Lab ho seguito in qualità di mentoring molte aziende che si sono presentate con sostanzialmente una curiosità per capire queste nuove tecnologie, come le possono aiutare e come possono aiutarle nel lavoro di tutti i giorni. Abbiamo gestito circa una quarantina di progetti, molto diversi tra loro, da piccoli oggetti, da piccole verifiche che magari potevano essere ricercate proprio per capire quanto queste tecnologie potevano essere utili all'interno dell'azienda e i progetti più importanti, veri e propri prototipi funzionali che hanno permesso prima di andare a mettere in produzione questi oggetti, di risparmiare soprattutto tempo e anche soldi perché comunque prima di arrivare a fare gli stampi si è potuto vedere tridimensionalmente avendoli proprio in mano e usandoli questi prototipi. I vantaggi di utilizzare queste nuove tecnologie, soprattutto la digital manufacturing che significa fabbricazione digitale, sono molto importanti perché agiscono praticamente su quello che è la personalizzazione per esempio del prodotto, la simulazione, quindi tutto quello che riguarda praticamente la ideazione, la prototipazione, il rendere possibile prima di andare in produzione un articolo o un prodotto è un vantaggio molto importante. In aggiunta, proprio per l'eccellenza italiana, la personalizzazione che è sempre stata uno dei punti di forza del Made in Italy con queste tecnologie diventa veramente molto semplice da utilizzare. In questo ovviamente il ruolo principale lo deve giocare a livello di fabbricazione digitale la progettazione perché proprio tramite la progettazione, attraverso la progettazione possiamo arrivare a dare gli input alle macchine, alle stampanti per arrivare a fare dei prodotti veramente di qualità.